Operazione Mare Sicuro 2014 al via da parte della direzione marittima Abruzzo Molise di Pescara. Fra le novità di quest'anno anche l'utilizzo di 20 cani Labrador che opereranno a terra e in mare con personale specializzato. Come ormai sappiamo le vacanze degli italiani si sono modificate, tutto si sta concentrando nei fine settimana e nel periodo classico del ferragosto. Per cui abbiamo pensato di concentrare le attività preventive di controllo ma anche informative e soprattutto di vicinanza a tutti quelli che sono gli utenti del mare. Dal balneario al diportista al pescatore e quant'altro fa turismo. Perché pensiamo che il turismo è una risorsa fondamentale dell'Abruzzo e quindi va tutelato anche con controlli da parte della Guardia Costiera che però vuole essere vicino al cittadino. Il comandante Luciano Pozzolano ha poi confermato che a breve si concluderanno le ultime operazioni di dragaggio. A luglio ci sarà poi la partenza del collegamento SNAV Pescara-Croazia. Sicuramente sì, il 19 luglio cominceranno le corse per la Croazia, il porto si sta imbellettando, la stazione marittima grazie alla collaborazione della Camera di Commercio sta facendo il look. Ce ne saranno ulteriori e stiamo in attesa che la sidra concluda definitivamente i lavori quindi lasci spazio a quelle che saranno poi le attività legate al turismo.